Sono giornate febbrili a vittoria negli ambienti sportivi cittadini, sotto i riflettori infatti l'avvertenza del vittoria calcio che tanto sta facendo discutere, sia a livello calcistico che anche politico. In questo momento la cosa più importante da fare, dopo la rinuncia di domenica contro lo Scordia, è salvare il titolo sportivo evitando la radiazione. E su questo punto tre sportivi di fama acclarata, Claudio Lamattina, Fabio Prelate e Rosario Salemi, sarebbero pronti a scucire i 3.500 euro da versare alla Lega. E intanto, proprio su questa somma, i dirigenti biancorossi hanno voluto fare delle precisazioni. All'orizzonte per il momento non c'è nulla, non è io quello che vorrei dire alla gente e praticamente non sono il problema delle 3.500 euro, perché in sé per sé le 3.500 euro non si poneva il problema. Il problema è il proseguo del campionato, perché non c'è solo le 3.500 euro, ma c'è il continuo, la gestione sportiva di un campionato calcistico d'eccellenza, quindi non sono le 3.500 euro che in sé per sé hanno fatto questo polverone, si è alzato. E quindi la domanda in pratica, la famiglia D'Agosta e Manoforte che cosa pensano di fare? La famiglia D'Agosta con il presidente Manoforte pensa che comunque non ci sono le condizioni per poter andare avanti per questo tipo di campionato. L'anno scorso ne abbiamo fatto uno, che comunque sappiamo che non ci sono gratificazioni nel pallone, perché abbiamo fatto l'anno scorso una finale regionale di playoff, però a tutto questo abbiamo sprecato tempo, sacrifici e denaro. Abbiamo lasciato le famiglie a casa per poter dare qualcosa in più al calcio vittoria, però tutto questo si è vanificato così. Ovviamente le persone non si ricordano del campionato dell'anno scorso che abbiamo fatto, ma di quello che sta succedendo quest'anno. Questi sono comunque, anche fa parte di tutto l'ambiente, perché lei sa benissimo che la domenica ci sono 100-150 persone allo stadio, sono sempre quelle 150 persone che vengono ogni domenica. Anche se abbiamo fatto quel campionato che tutti avete visto, questi sono i risultati, perché vittoria e vittoria è di tutti. Ma per criticare, non per dare, se c'è un bisogno, un apporto alla società, è vittoria di tutti per criticare, non per dare appunto un apporto a questa società. Però tutto questo noi adesso stiamo vedendo la situazione come è da fare noi. Vi confronterete, vi avete parlato anche con questi tre? Sì, ieri sera abbiamo avuto un incontro. L'obiettivo è salvare la radiazione? L'obiettivo ovviamente è salvare il vittoria, è salvare il salvabile e poi se ci sono le condizioni per poter fare il continuo della stagione, bene, tutto questo ne va giustamente per la città.